Giusto quello che dici, ma non mi piace il fatto che fai passare il messaggio come se, nata Ramazzotti, si deve sentire responsabile delle disgrazie di tutto il mondo. Ti ringrazio per il commento, ma si tratta di una tua interpretazione personale. Questo non è il messaggio che io voglio far passare. In linea generale, con i miei video, intendo soprattutto indurre alla riflessione. Diciamo provocare una riflessione. E infatti quasi tutti i miei video sono provocatori. Quindi sono contento per ogni commento che ricevo, perché vuol dire che le persone che li guardano in qualche modo riflettono. Allora, ti spiego cosa mi ha spinto a fare questo video. Qualche giorno fa ho fatto un video in cui riflettevo sul dolore che mi ha dato incrociare lo sguardo di una giovane donna che puliva i bagni in un centro commerciale. Sguardo in cui ho visto stanchezza, sofferenza, umiliazione. Si tratta infatti di un lavoro faticoso, poco rispettato e pagato pochissimo. E molte donne e uomini sono costretti a farlo solo per sopravvivere. Non per vivere, ma per sopravvivere, cioè per non morire di fame. Poi, ieri, ho visto il video della ragazza che piangeva di rabbia perché fa fatica ad arrivare a fine mese pur lavorando. Nel caso suo specifico, non arrivava a fine mese in quel mese lì per un problema medico inaspettato. E scriveva, in Italia non posso più vivere. Inoltre, sono conscio di ciò che accade nel nostro paese. Disoccupazione giovanile alle stelle, contratti da schiavi per 3 euro l'ora e 12 ore al giorno di lavoro, inflazione galoppante, piccole attività commerciali e produttive che chiudono, eccetera, eccetera. Infine, mi sono ritrovato nei per te il video di Aurora Ramazzotti, che esprimeva il suo pensiero sul fatto che viene giudicata, a volte addirittura odiata, solo perché ha un cognome famoso. Cosa che a me fa schifo e che condanno senza se e senza ma, giusto per essere chiari. L'invidia è una cosa lontanissima da me, io fisiologicamente non riesco a essere invidioso di nessuno. Quindi, men che meno, posso odiare o anche soltanto giudicare una persona famosa, come ad esempio Aurora Ramazzotti. Oggettivamente, però, Aurora Ramazzotti vive una situazione decisamente più privilegiata della ragazza del video a cui mi riferisco nel mio video. O della donna che puliva i bagni, o magari dei rider che rischiano la vita per paghe da fame. Quindi, nel mio video, ho semplicemente invitato Aurora a immaginare che, se non fosse nata Ramazzotti, come dice lei, sarebbe potuta nascere quella ragazza e che quindi le sarebbe potuta andare peggio, se non altro dal punto di vista economico. Infine, in quanto persona famosa, la invitavo a dare la sua solidarietà alla ragazza del video. Tutto qui. Io non ho criticato Aurora Ramazzotti e non mi sono rivolto a lei in quanto figlia di personaggi famosi, ma in quanto persona oggettivamente privilegiata, in termini economici, di opportunità, di conoscenze, eccetera. Avrei fatto lo stesso se avessi visto un video simile, che ne so, di Chiara Ferragni, che non ha genitori famosi, o magari di un ricco ma sconosciuto avvocato di Milano o di Palermo. Ecco, Aurora è probabilmente bravissima in tutto quello che fa. Non lo so perché non la seguo, ma lo posso immaginare. Però è innegabile che viva una situazione economica, se non altro economica, di privilegio rispetto alla ragazza che si lamentava di non arrivare a fine mese nel suo video. Questo ovviamente non è una colpa, non deve sentirsi responsabile di nulla personalmente, ma quello che ho voluto fare col mio video è invitare lei e tutti quelli che lo guardano a una riflessione. Per inciso, comunque, io credo che un po' tutti dovremmo sentirci responsabili se esistono dei contratti legali full time da 500 euro al mese. Sentirci responsabile e quindi fare magari qualcosa al riguardo. Ma questo è un discorso un po' più complesso che magari affronterò in un altro video. Tutti hanno dei problemi nella vita, non importa quanto ricchi e quanto famosi, lo sappiamo benissimo, bisogna andare al di là della superficie e non essere banali e qualunquisti. E tutti gli esseri umani che in qualche modo soffrono meritano il massimo rispetto. Detto questo, però, voglio sottolineare che io la penso un po' come Marilyn, che molto pragmaticamente disse, se proprio devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls piuttosto che su quelli di un vagone del metrò. Grazie. 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 Grazie.